È una puntata che parte in una maniera un po' triste oggi perché ci ha lasciato un grande campione, un campione amato da tutti gli italiani, senza sì e senza ma. E come tutti i campioni era una persona che era nel cuore di tutti, mi riferisco a Raffaella Carrà che ci ha lasciato, che io ho conosciuto a casa di mio padre, di cui era buona amica e che io mi voglio immaginare ancora così con papà che l'aspetta con le carte in mano, insieme all'altro grande della televisione, Biagio Agnes, con cui dividevano spesso il tempo per ingannare così. Nei loro momenti di tranquillità le giornate divertendosi e sorridendo. Ciao Raffaella e oggi ritorniamo a parlare di calcio dopo questa notizia che non avrei mai voluto avere, dare e sentire e quindi vado a presentare subito gli ospiti partendo da Fabio Santini. Ciao Maurizio e buonasera a tutti. Purtroppo è stato un fulmine a ciel sereno. Un fulmine a ciel sereno perché lei è stata bravissima a tenere nascosto quello che lei aveva, anche noi che, devo dire, da un po' di tempo non la sentivamo, non sapevamo nulla. Infatti, per me è stata una notizia che mi ha colpito moltissimo, ovviamente mi è dispiaciuta tantissimo, io l'ho conosciuta poco, papà la conosceva molto meglio e molto bene. Detto questo, oggi abbiamo da parlare di tante cose. Immobile Morata, favorito immobile, però bisogna dire la verità, tra tutti e due non è che hanno fatto un europeo strevitore. Io invece sono convinto che possono essere determinanti non tanto le punte quanto i centrocampisti, perché la particolarità dell'Italia è che ha segnato cinque gol con i centrocampisti. E quindi i centrocampisti che sono andati a segno con delle conclusioni dalla media e lunga distanza, anche questa è una caratteristica che contraddistingue l'Italia e l'azione offensiva dell'Italia. Però questo si può leggere anche al contrario, si può leggere, ha segnato con i centrocampisti cosa manca? I gol degli attaccanti. Non è affatto vero perché ha segnato quattro gol con gli attaccanti, gli stessi quattro gol che ha segnato la Spagna. No, ho capito. Gli stessi quattro gol che ha segnato la Spagna. Però il nostro centroavanti ha segnato due gol. Il nostro centroavanti ha segnato come ha segnato Morata. Due gol Morata e due gol immobile. No, ma io non sto paragonando l'attacco dell'Italia a quello della Spagna, io sto parlando di quello che secondo me manca un po' alla nostra nazionale per fare il salto di qualità. Abbiamo segnato undici gol in cinque partite, siamo una delle squadre che ha segnato di più. Quindi se non segniamo con gli attaccanti e con i centrocampisti, nessuna squadra ha segnato quanto ha segnato l'Italia con i centrocampisti. Se tu non la smetti di lì, ci ha lasciato l'olio di un obbligo che attaccherà sempre. Non discuto i numeri anche perché se discuto io alla nazionale che ho difeso Mancini anche quando lo attaccavano tutti, figurati, quindi non sentirete mai la cosa. No, cosa c'entra? Ti sto dicendo, se mi fai finire un concetto è... Ma cerca di essere sintetico e non... Dai, 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 non mi fate innervosire Filippo. No, devo farlo innervosire Filippo. Se devo trovare un difetto alla nostra nazionale... E' già che clavatevi di maglietta? E' ancora un po' in mutande. Chi è? Tanto alle dieci e mezza poi si spegne. Volevo dire che Immobile in questo momento è forse quello che manca un po' alla nostra nazionale. Chi ha criticato Immobile perché non è un bomber secondo me sbaglia perché ha dimostrato di essere un grandissimo attaccante. Il problema è che non è in forma. Mancano i suoi gol per fare il salto di qualità perché probabilmente se ci fosse stato un Immobile in forma non avremmo avuto troppi problemi con l'Austria, non avremmo avuto troppi problemi magari in fase realizzativa con il Belgio. Abbiamo Chiesa che supplisce, abbiamo Insigne che tira fuori il tiro a gir. Però manca il tiro a gir. Proprio perché hai parlato di Insigne, vado da Gianluca perché ti faccio questa domanda. E' vero che noi da italiani non siamo mai soddisfatti fino a che non c'è una straripanza nei confronti dell'avversario. Però Immobile, che in questo momento qualche problema lo sta dando, subisce secondo te le stesse critiche che ha subito Insigne sotto certi aspetti? Poi Insigne ha subito le critiche e poi ha risolto da par suo con i tiri a giro, con i gol, con le magie che lui sa fare. Imparate tutti, lo dico dall'inizio dell'anno quando facciamo le nostre dirette, si dice o tira a giro. Quindi imparate tu o tira a giro. Lo so criticato, quindi mi sembra naturale, le parole di Mancini sono rassicuranti. L'Italia, la formazione è questa, non ha sbagliato una partita, sta andando come un treno. Non possiamo metterci a metterla lente di ingrandimento su questa situazione. Immobile troverà l'occasione giusta. E poi c'è anche un altro aspetto scaramantico, che mi lascia assolutamente tranquillo. L'Italia ha vinto tutte le partite contro formazioni Turchia, Svizzera, Galles, Austria e l'ultima col Belgio, con la maglia contro una sformazione con la maglia rossa. La Spagna che maglia ha? Rossa. E allora ragazzi, di che stiamo parlando? Ma scusa, però questa cosa non la capisco al diare la maglia rossa. Ma non è che uno si trova il pelo nell'uovo, cioè allora non parliamo dell'Italia, diciamo che è tutto perfetto e chi se ne frega. Se vogliamo dire che Immobile fino ad oggi è stato il punto di diamante della Nazionale, diciamolo. Ma nessuno ha detto questo, perché altrimenti facciamo una figura di venta. E allora si può dire che mi aspetto di più tutti i centravanti della Nazionale italiana che è Scarpadolo. Va bene, si può dire che Immobile in questo momento non sembra in grande forma, si può dire? Si può dire? No, allora se mi dici che è in grandissima forma... Non l'ho detto questo! E allora ma cosa? Non l'ho detto questo! La Nazionale sta andando bene! Non l'ho detto questo! Ma se c'è un problema è quello! Consente con il suo movimento di mandare la rete ai centrocampisti! Ma se è Immobile in questo momento è utile il Immobile per la Nazionale italiana. Ma non è vero! E Cain con tre gol, gli altri tutti due, compreso Immobile. Ma io ho capito, quelle che sono rimaste in borsa, va bene! Quindi anche Immobile non ha segnato meno dei 5 gol, Luca, alcune ha fatto 4, eccetera! Però con il suo movimento ha consentito all'Italia e ai centrocampisti di andare a rete! Allora, noi ci fermiamo per la pubblicità, però vorrei dire a Gianluca Vigliotti, lui ha trovato un motivo per essere scalato... Grazie!